Sono trascorsi 50 anni di storia dalla nascita della regione toscana che oggi possono essere ripercorsi attraverso le foto dell'archivio ANSA. Questo racchiude la mostra intitolata I nostri primi 50 anni, realizzata dal Consiglio e dalla Giunta regionale in collaborazione con l'Agenzia di Stampa. L'esposizione è stata inaugurata a Firenze il 13 luglio 2020 per il compleanno dell'istituzione, nata nel 1970. Al taglio del nastro hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni, con l'Assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro Cristina Greco, insieme al dirigente Giancarlo Torri e la responsabile della sede fiorentina dell'ANSA, Paola Catani-Gagliani. La Toscana, forte del suo passato umanistico segnato dal genio, dalle arti e dalle grandi scoperte scientifiche, con una componente sociale votata alla tutela dei diritti, ha accolto la nascita delle regioni in un contesto già caratterizzato dalla millenaria presenza ed attività dei comuni e delle province. Il 13 di luglio, ma 50 anni fa, nel 1970, si riuniva per la prima volta il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale arrivava a 22 anni dalla Costituzione della Repubblica che aveva sancito l'istituzione delle regioni. Regno d'Italia aveva previsto province, prefetture, comuni, ma non regioni. Lo Stato era centralistico. È proprio per volontà dei costituenti e molti costituenti toscani, penso a Piero Calamandrei, che lo Stato diventa articolato in autonomie territoriali, lo dice l'articolo 5 della Costituzione. Vi ha una grande tensione, vi ha un grande entusiasmo, lo vediamo nelle prime fotografie. Il 13 luglio viene eletto il Presidente del Consiglio, Elio Gabugiani, che svolgerà il ruolo per cinque anni prima di diventare il Sindaco di Firenze. Il Presidente della Giunta sarà Lelio Lagorio, ma allora veniva eletto dal Consiglio. Sarà solo una fase successiva che la legge porterà all'elezione del Presidente come quella del Sindaco da parte dei cittadini. Il Consiglio svolge in questi 50 anni ruoli davvero significativi. Si dà un sistema legislativo nelle materie che dall'urbanistica all'ambiente, al paesaggio, al lavoro, alla sanità faranno l'identità toscana. Contemporaneamente momenti storici che viviamo e che questa mostra evidenzia. La mostra si divide tra Palazzo del Pegaso, sede oggi del Consiglio regionale, e Palazzo Strozi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale. I due luoghi simbolo del potere politico locale che negli anni hanno prodotto gli atti necessari all'organizzazione delle comunità presenti sul territorio toscano. In questi anni le leggi e gli interventi anche delle giunte che si sono susseguite hanno sempre avuto un filo rosso, un filo conduttore che poi si può ricercare proprio nei nostri ideali, nelle nostre radici, nella nostra storia. Quindi 50 anni, 5 decenni di cose importanti, di eventi che hanno contribuito anche alla crescita del Paese e adesso ci aspettano nuove sfide. Penso che in questo momento così difficile, dove sappiamo già che ci aspetteranno mesi molto duri per l'occupazione, per la crisi che diventerà crisi economica e rischia di diventare, è già diventata crisi economica, rischia di diventare crisi sociali, dovremo essere bravi a proseguire sulla strada di questi decenni per dare risposte ai nostri cittadini. La selezione degli scatti è stata curata dall'ANSA, che ha estratto dal proprio archivio passaggi fondamentali della storia toscana, come la votazione di leggi, le ricorrenze legate alla memoria di luoghi e personaggi, fino alla presenza di ospiti illustri. La mostra racconta il cammino fatto dal Consiglio e dalla Giunta regionale in questi 50 anni, appunto dalla prima seduta, quelli che sono i suoi enti, come è voluta, tutto questo attraverso il patrimonio fotografico dell'ANSA e non solo, dobbiamo dire anche grazie all'archivio del Consiglio della Giunta regionale e di altri archivi fotografici. A Palazzo del Pegaso la sequenza di immagini parte dalle fotografie in bianco e nero della prima seduta del Consiglio e di Loretta Montemaggi, prima donna eletta in Italia alla guida di un'assemblea legislativa regionale nel 1975. La mostra, ospitata a Palazzo Strozzi Sacrati, illustra invece gli obiettivi perseguiti dalla regione toscana nei suoi 50 anni di storia, dalla protezione civile all'economia, dalla tutela dei diritti e della legalità, alla sanità e alla cultura. La Toscana, che ha lasciato un segno nella storia d'Italia e nel mondo, sotto la guida di grandi famiglie prima e di singoli personaggi poi, ha attraversato la nascita delle regioni come un passaggio fondamentale per la rappresentatività delle istituzioni. Noi abbiamo la Toscana come regione moderna da 450 anni, da quando Cosimo I, con bolla del Papa Pio V, fu definito Magnus Dux Etruria, ovvero Granduca di Toscana. Questo spirito da 450 anni ha portato dalla Toscana, fra gli otto stati preunitari, quando si è costituita l'unità d'Italia, ad essere l'unica realtà preunitaria che assomiglia per territorio, circa il 90-85% del territorio è lo stesso, di quello che è la Toscana moderna, una delle 20 regioni italiane, quindi una Toscana che sa essere regione d'Italia ma contemporaneamente che rivendica, valorizza una sua cultura, una sua identità territoriale, un suo sistema di valori e in questi 50 anni un modo di essere appunto all'interno della Repubblica uno indivisibile regione toscana e questa mostra documenta segni di questi 50 anni. La regione toscana ha creato negli anni un modello di gestione che anche nell'ultima legislatura l'ha portata a rappresentare a livello nazionale i bisogni e le necessità dei diversi territori che la compongono. La dimensione regionale io credo che sia una dimensione inevitabile per interpretare i fabbisogni delle comunità, dei territori e per far atterrare le politiche veramente, però naturalmente bisogna coordinarsi con il livello nazionale e non solo, anche con il livello europeo. La regione toscana è proprio un modello virtuoso a cui ispirarsi, quindi è anche un brand e un sinonimo di diritti, di benessere, di bellezza, quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi al di là dei numeri, al di là dei risultati che peraltro sono altrettanto soddisfacenti, però ecco essere rappresentanti in Italia e nel mondo della bellezza, del buon vivere e terra di diritti, questo è davvero una cosa che riempie di soddisfazione. L'esposizione resterà aperta fino al 7 agosto a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta. La mostra è anche virtuale e può essere visitata accedendo al portale del Consiglio regionale della Toscana.